Percezione del dolore Differenze tra donne e uomini Influencate da fattori biologici e sociali La percezione del dolore varia significativamente tra i generi Influenzata da fattori biologici, psicologici e sociali Questa differenziazione ha radici profonde Meritevoli di esplorazione per comprendere appieno come il dolore Venga vissuto e gestito individualmente Gli ormoni giocano un ruolo cruciale nella percezione del dolore Particolarmente nelle donne Estrogeni e progesterone, fluttuando nel corso del ciclo mestruale Influiscono non solo sulla soglia del dolore Ma anche sulla risposta agli analgesici Delineando una complessità unica I neurotrasmettitori, come la serotonina e la noradrenalina Mediano la sensazione del dolore nel cervello Le differenze nella loro attività Tra i sessi suggeriscono una predisposizione biologica Che contribuisce a una diversa sensibilità e reazione al dolore La ricerca ha dimostrato che il ciclo mestruale incide sulla soglia del dolore Con variazioni significative che si manifestano nelle diverse fasi Questo fenomeno sottolinea come le fluttuazioni ormonali mensili Possano alterare la percezione del dolore nelle donne Infine, la psicologia del dolore Rivela che uomini e donne Elaborano e esprimono il dolore in maniera distinta Influenzati da fattori psicologici come l'educazione Le aspettative sociali E l'esperienza personale Delineando una complessità nella percezione del dolore Che va oltre la biologia L'impatto della socializzazione Gioca un ruolo cruciale nel modo in cui le donne esprimono il dolore Fin dalla tenera età Le differenze di genere vengono enfatizzate attraverso aspettative socio-culturali Portando le donne a manifestare il loro dolore in maniera più aperta rispetto agli uomini La comunicazione del dolore varia significativamente tra uomini e donne Mentre le donne tendono a parlare apertamente del loro disagio Cercando empatia e supporto Gli uomini spesso minimizzano o nascondono il dolore Per aderire agli stereotipi di forza e mascolinità Il concetto di dolore invisibile Si riferisce alla tendenza a ignorare o sottovalutare il dolore femminile nel contesto sanitario Questo atteggiamento può portare a diagnosi tardive o errate Influenzando negativamente la salute e il benessere delle donne Le pratiche mediche attuali Evidenziano una tendenza preoccupante a sottovalutare il dolore femminile Ciò è dovuto, in parte, a stereotipi di genere radicati Che influenzano la percezione del dolore Portando spesso a trattamenti inadeguati o incompleti per le pazienti donne Il bias di genere nella diagnosi e trattamento del dolore Ha conseguenze durature sulla salute delle donne Questa disparità non solo impedisce un'adeguata cura del dolore Ma contribuisce anche a un circolo vizioso di sottovalutazione e misconoscimento del dolore femminile La resilienza al dolore è spesso avvolta da miti Che attribuiscono una maggiore capacità di sopportazione a uno specifico genere Tuttavia, le ricerche dimostrano che la realtà è più complessa Facendo emergere la necessità di approcci individualizzati Il supporto sociale gioca un ruolo cruciale nella percezione del dolore nelle donne La condivisione delle esperienze e l'empatia ricevuta Possono significativamente alleviare la sensazione di dolore Sottolineando l'importanza delle reti di supporto emotivo Uomini e donne adottano strategie di coping diverse di fronte al dolore Mentre alcuni tendono a interiorizzare, altri cercano attivamente sostegno esterno Queste differenze richiedono un'attenzione particolare Per offrire interventi più efficaci e personalizzati L'educazione sulla salute e il dolore specifico di genere È fondamentale per sfatare i pregiudizi E promuovere una comprensione più profonda delle differenze Una maggiore consapevolezza può guidare verso trattamenti più adeguati E una migliore qualità della vita Le innovazioni nella ricerca del dolore Stanno iniziando a concentrarsi sulle differenze di genere Gettando luce su come le variazioni biologiche e psicosociali Influenzino l'esperienza del dolore Questo approccio promette di migliorare significativamente Le strategie di trattamento per tutti L'approccio personalizzato nel trattamento del dolore è cruciale Le differenze individuali e di genere richiedono strategie mirate Che considerino ormoni, fattori psicologici e sociali Questo permetterebbe terapie più efficaci E una qualità di vita migliorata per tutti L'empatia gioca un ruolo fondamentale nella comprensione del dolore altrui Riconoscere le differenze di genere in questo contesto Può aiutare i professionisti sanitari A offrire un supporto più attento e personalizzato Promuovendo un clima di maggiore comprensione reciproca Fattori ambientali e stili di vita Influenzano notevolmente la percezione del dolore nelle donne Stress, dieta e esercizio fisico Possono alterare la sensibilità al dolore Evidenziando la necessità di approcci olistici Nel trattamento del dolore che considerino l'intero essere La maternità e il postpartum Rappresentano periodi unici nella vita di una donna Con sfide specifiche relative al dolore È essenziale che il supporto medico durante questi momenti Tenga conto delle specificità del dolore femminile Offrendo cure adeguatamente personalizzate Affrontare malattie croniche dolorose richiede una prospettiva di genere Le donne spesso sperimentano e comunicano il dolore diversamente dagli uomini Il che può influenzare la diagnosi e il trattamento Una maggiore consapevolezza di queste differenze Può migliorare significativamente la gestione del dolore cronico Promuovere una maggiore consapevolezza sulle differenze di genere nel dolore È fondamentale per superare gigli stereotipi E i pregiudizi che ancora oggi influenzano il trattamento sanitario Riconoscere queste differenze Permetterà di sviluppare approcci più mirati e efficaci Garantendo a tutti una cura equa e personalizzata Verso una comprensione e gestione più equa del dolore Tra i sessi è essenziale che la ricerca e le pratiche mediche Evolvano per includere e valorizzare le diversità Solo attraverso un cambiamento culturale e scientifico Potremo assicurare che nessuno sia lasciato indietro nel percorso verso il benessere Sì 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 Sì